A rieccomi, dopo le vacanze di Natale torno a fare dei video purtroppo in questo periodo sono stato molto impegnato e non potevo dare priorità al canale considerando anche che non è seguitissimo, è molto di nicchia vorrei cominciare parlando di questi stickers che mi sono arrivati già da un po' di tempo il link per ordinarli l'ho trovato in descrizione si tratta di stickers con il logo personalizzato vi sto mostrando il 2x2 che è quello più grande ovviamente con il mio logo con cui lavoro e mi faceva piacere averlo sui cubi per averli personalizzati li ho presi per il 2x2, il 3x3, il 4x4 e il 5x5 gli stickers sono di ottima fattura, sono vinile Oracle 651 per cui il migliore in assoluto altra cosa, non è una stampa che va via non può essere grattato via perché in pratica viene plastificato c'è uno strato trasparente sopra che non si nota, non si può neanche vedere perché è perfettamente allineato con lo stickers per cui in pratica non può essere cancellato non è rimovibile, è definitivo, permanente finché lo stickers non si rovina come qualsiasi altro stickers allora, dicevo, parliamo di spese io ho speso circa 12-13 euro e con circa 12 o 13 euro in tutto compresa la spedizione mi è arrivata tutta questa roba qui, adesso li stavo contando secondo me c'è qualche stickers extra mi ha mandato roba in più perché non ho ordinato tutta questa roba quindi assolutamente molto molto simpatico e gradito con 12 euro mi sono arrivati una ventina di stickers per i 2x2 quindi vuol dire che con questi si coprono 20 cubi 2x2 poi una trentina di stickers per i 3x3 che sono questi qua poi queste due striscette con 4x4 e 5x5 tra l'altro il 4x4 e il 5x5 è utilizzabile anche per gli zanci mini questo è lo zanci da 50 mm e c'è lo sticker del 4x4 mentre lo zanci da 42 mm eccolo qua viene un po' più piccolino, è vero però non si nota tanto, va bene è lo sticker per il 5x5 e potete personalizzare anche questo che insomma, avere il cubetto piccolo personalizzato è proprio uno sfizio per i più nerd come me quindi che altro dire ecco, parliamo di leggerissimi difetti sul Guhong e su altri cubi che hanno i crateri accendiamo la luce più piccoli come questi non ci sono problemi lo sticker si può attaccare così com'è per il 4x4 e il 5x5 vale lo stesso discorso se però moddate il 4x4 dovete anche limare gli angolini dello sticker quindi 5x5 ve lo mostro è forse leggermente più piccolino degli standard mezzo millimetro forse scarso ma va benissimo mentre il 2x2 risulta essere leggermente, ma veramente leggermente più grande degli standard infatti sborda un pochino ma con un po' di attenzione lo si può mettere bene e non si nota come potete vedere invece per i nuovi 3x3 come questo che è il mio attuale main è il YJ Sulong che ha i crateri enormi purtroppo ho dovuto effettuare questi tagli che sono visibili volendo con un po' di pazienza si possono rendere rotondi e quindi non si nota nulla io li ho fatti netti con le forbici tutto sommato è carino anche così ho scritto comunque una mail all'autore di questi stickers che però non mi ha risposto per cui non so cosa ne pensa gli ho proprio suggerito di rendere un pochino più piccoli quelli per il 2x2 e per il 3x3 perché ormai tanti cubi hanno questi crateri è meglio farlo leggermente più piccolo che quindi può andare anche in cubi come il Gu Hong che farlo grande e doverlo tagliare quando ti trovi con cubi come questo non ho nient'altro da dire riguardo questi stickers penso di aver detto tutto in descrizione trovate il link per comprarlo da quel sito e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti